Ciao a tutti, sono Franco Martinelli e dopo la serie di video precedenti dove ho dimostrato le tecniche delle ottave, hammer, pull off e deep note, ecco una serie di esercizi a tecnica mista. Esercizio numero 1 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Esercizio numero 2 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!